Per me i lievitati sono sempre stati una golosità, in senso che fin da piccolina mangiavo il pane duro con lo zucchero, il pane caldo col peperoncino, e rappresentano un po' secondo me il cibo universale, il cibo sociale per tutti. In ogni tradizione c'è la cultura di un impasto fatto con farina e fermento, il pane è espressione di umanità. Casa Mazzucchelli è il nostro nuovo progetto, molto unico e coraggioso, dove tutta la mia esperienza di chef l'ho unita a preparazione di piatti e lievitato. Cosa vuol dire? Quindi all'interno della preparazione c'è un ingrediente in più, che è la panificazione, è il grano, la farina, il croccante, un'espressione diciamo totale, quindi dell'entità casa Mazzucchelli, ristorante e forno mollica. La tecnologia nel mio mondo, quindi nel mondo della ristorazione, è importantissima, in senso che per me la cucina è testa, cuore e gola, ma la tecnica ci deve essere, perché ti aiuta comunque a ottimizzare tutto quello che è il tuo lavoro, e ad avere quindi anche cotture giuste, dove appunto puoi fare delle precotture e poi un rigenero. E questo fa sì che anche nello sviluppo della stessa giornata vai a ottimizzare quelli che sono tutti i tempi e le forze lavoro. Ho scelto la cottura del forno serie S Moretti perché mi dà l'opportunità di essere multifunzionale, cioè vuol dire posso fare cotture lunghe, cotture statiche, con calore a caduta, e anche il rigenero, che per me è molto importante. Cioè in casa Mazzucchelli, dove io abbino lievitato alla cucina, ho bisogno di rigenerare, quindi quello che è sia la parte ingrediente, sia la parte lievitato. Io ho sempre lavorato sui piatti cercando di mettere quello che è la mia personalità e il territorio e ciò che ci appartiene anche come famiglia. Quindi nel mio progetto, quando penso a un piatto nella mia mente, tutti questi elementi in qualche modo ci devono essere. Ingredienti soprattutto, quindi tecnica di ricerca, di cottura, tecniche di preparazione e la personalità. Ecco qui l'unione quindi del lievitato, visto come forma appunto di complemento del piatto e di effusione totale tra l'ingrediente principale e il lievitato. Per il mondo del lievitato io vedo un grande futuro, anche per questo appunto nasce casa Mazzucchelli. Nel senso che per nostra cultura in realtà il pane c'è sempre stato, è sempre stato un alimento o comunque lievitati che ha accompagnato tantissime culture, persone. Quindi l'Italia è un racconto del lievitato stesso e forse negli anni si era anche un po' persa questa identità, soprattutto la qualità dentro a questa identità. Quindi negli ultimi anni c'è invece stato un grande riscoperta di quello che sono appunto i lievitati e le tradizioni. Io vedo un futuro dove si andrà sempre a crescere appunto questa cultura, a cercare a ritrovare quello che è veramente la cultura del lievitato in Italia.